questo ulteriore video in cui direte ma gli è cascata l'antenna ascoltiamo sempre l'obiettivo di X l'antenna utilizzata in questo momento è quell'antenna lì quindi parliamo di un'antenna per uso veicolare su base magnetica che è appoggiata su un mobile all'interno dell'abitazione non ci sono preamplificatori accesi ritengo interessante poter far la prova di vedere come influisce il preamplificatore su un segnale ricevuto in AM un segnale piccolo sarebbe stato inutile averlo a 9 più 40 e poi intervenire sulla parte dei preamplificatori allora funzioni abbiamo messo il preamplificatore in posizione 1 portiamo adesso in posizione 2 dicevo che potete ascoltare anche a studio di X sulla WRMI oppure in Italia in FM grazie anche a Veneci per la Vincontra e Papagoschepecchi che ci ha ascoltato proprio attraverso radiodiffusione europea sia sui 1584 che sui 819 è più difficoltosa la ricezione della frequenza estremamente locale per Trieste dei 720 KHz ma fra le notizie interessantissime ma devo dire insomma triste di questa settimana c'è il fatto che è stata cancellata la trasmissione la tradizionale trasmissione e natalizia dell'alternatore Alexanderson Sierra Alfa a Chiepecchi il periodo insomma è duro è quello che è per cui la fondazione ora spegniamo il preamplificatore così è diciamo pulito un'altra notizia molto molto interessante è il cambio delle frequenze per World Music Radio e Radio 208 c'è un motivo specifico praticamente e ormai ufficiale che l'autorità per le telecomunicazioni danese ha deciso di non aderire all'articolo 4 del regolamento datico del ITU che consente l'utilizzo di frequenze fuori palla bene vi ringrazio per questo video sicuramente più breve dei precedenti ma non ho lo scopo di far ascoltare la trasmissione a cui vi rimando ai vostri ricevitori era solo per mostrare la funzionalità del preamplificatore in posizione 1 e in posizione 2 di questo ICOM705 grazie a tutti se il video vi è piaciuto lasciate il consueto like e non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale grazie mille ah si devo aggiustare l'orologio o l'ora impostata in modo errato ogni tanto mi accorgo che sono indietro di un'ora ciao a tutti grazie